Gia, i Beatles chi non li ricorda? Non ci hanno detto che il lavoro non è azionato in qualche maniera, che nemmeno arriva all'onore precisa. Un'imposizione lenta di una mela, veramente geniale. Grazie Lennon, 20.000 persone sono arrivate sotto il palco. Ho buttato via tutte le mie poesie, te le pentirai quando sarò famoso. Non le perdonavo infatto che non mi trattasse come un pottuto genio. Grazie.